Buongiorno a Johnny Caravan, oggi vi presentiamo un veicolo splendido, un Cartago, un Chic C-Line 4.9, un veicolo che abbiamo in promozione nuovo da immatricolare, ha un motore 160 cavalli due e tre Fiat e questo veicolo da 125.750 euro che è il listino lo proponiamo in offerta a 109.250 euro quindi con un grande risparmio con uno sconto aggiuntivo su tutti gli accessori che installeremo o che è su richiesta di cliente con 30% di sconto. Allora gavone passante, pavimento doppio pavimento, in vetro resina stivabile come possiamo vedere con varie aperture sia sulla parete destra che sulla parete sinistra. Vediamo anche il vanno di stivaggio esterno della parete sinistra, come si può vedere un grandissimo gavò che possiamo utilizzare anche per valigie e tavolini o sedi. Ampio garage rivestito internamente con dei vanni portoggetti, come si può vedere caratteristiche il cartago, impianto elettrico, tutto nella parte del garage e quindi viene isolato dalla parte interna del veicolo per evitare anche esalazioni e quant'altro. Televisore già installato da 32 pollici, quattro casse, due nella parte anteriore e due nella parte posteriore per la stereofonia. Questo veicolo presenta anche, un dato tecnico non da poco, è praticamente un serbattorio dell'acqua potabile da 170 litri e un serbattorio di recupero dell'acqua grigia da 140. Siamo entrati adesso all'interno del veicolo, grande living anteriore, possiamo vedere nella parte della cabina il cambio automatico, 9 G-Tronic, il climatizzatore automatico e già di serie, il doppio DIN Pioneer con retrocamera. Gravigliosa cucina a tre fuochi con vanni per lo stivaggio, qui abbiamo due patumiere e dei grandi cassettoni. Altro accessorio presente in cucina, a parte la vetrinetta con dei bicchieri, anche la macchina del caffè, che è a scomparsa, che permette quindi di avere delle comodità e anche poter utilizzare i migliori servizi all'interno del veicolo. Frigorifero da 160 litri automatico con cella ghiacciaia separata, si può far andare anche manualmente, naturalmente, e tanto che siamo qui vi faccio vedere anche un cassetto verticale utilizzabile per le bottiglie o per quanto magari volete stivare anche come dispensa. Come potete vedere un bel bagno grande e alla parte opposta una doccia separata per avere naturalmente sempre la comodità più assoluta in questo splendido veicolo che è un meraviglioso doppio pavimento con un bellissimo design interno. Allora vediamo i letti, allora questo ha una caratteristica, letti gemelli con la possibilità di allungo e quindi creare un tre piazze nella parte posteriore. Abbiamo il letto basculante, unico nel suo genere per cartago, 1,60 m di larghezza per 2 metri circa, lo vediamo, molto semplice da abbassare, scende molto quindi è anche facile per accederci. Chiudiamo quindi la presentazione di questo meraviglioso veicolo ripetendo l'offerta di questo Chic C-Line 4.9 su motore 2,3 Fiat 160 CV, cambio automatico da 125.750 euro prezzo di listino a 109.250 chiavi in mano e uno sconto 30% sugli accessori. Ricordo che questo veicolo ha omologato 5 posti, 4.500 kg quindi patente C e ha anche la retrocamera che forse prima non ve l'avevo detto. Un saluto da Alessandro Casarigio, Alicara, venite a trovarci a Mestrino, Padova.